C'è un aspetto che ha caratterizzato anche questo periodo post emergenza sanitaria che è quello della ripresa economica. Ripresa è una parola grossa che va argomentata, che va supportata da strumenti, invece da quello che emerge dalle tabelle le imprese sono sempre più povere, le banche negano i finanziamenti. C'è stato un passo indietro da questo punto di vista? Il passo indietro si registra da tempo. Noi dobbiamo parlare propriamente di una questione Sicilia e poi in particolare una questione delle singole province. La questione Sicilia si denota un aspetto, l'aspetto finanziario. Le economie sono fiacche. Perché sono fiacche? Perché dal 2011 al 2019 vi è stato un calo progressivo del supporto finanziario alle imprese. Se andiamo a notare statistiche della Banca d'Italia, accertiamo che da 31 miliardi e 659 milioni che erano affidati alle imprese, piccole, individuali, società, siamo passati a 19 miliardi e 600 milioni. Abbiamo registrato un calo degli affidamenti tra il 2011 e il 2019 di 12 miliardi. Pensate che nell'ultimo anno, tra il 2018 e il 2019, c'è stato un calo degli affidamenti di 1 miliardo 882 milioni. Ora, mancando questo supporto finanziario alle imprese, è chiaro che le imprese crollano e con esse maestranze lavoratori. Non ci spieghiamo questo calo, dinanzi, viceversa, a un incremento strutturale dei depositi da parte dei siciliani. Perché da 74 miliardi e 800 milioni del 2011, siamo passati a 88 miliardi e 600 milioni. Quindi c'è un aumento dei depositi e una diminuzione degli affidamenti alle imprese. Questi quattrini vanno via. Se volessimo parlare di un rapporto che vi era tra depositi nel 2011 e affidamenti alle imprese, avevamo affidamenti pari al 42% dei depositi. Parimenti, la percentuale fra affidamenti e depositi raccolta del 2019 si attesta al 22%. Quindi c'è un calo del 20% degli affidamenti. Questo naturalmente, nonostante il fatto che i depositi sono aumentati e gli affidamenti sono diminuiti. Quindi potrebbe essere anche maggiore. E in effetti, se noi, alla Stata attuale, se mantenevamo il rapporto del 42% e non del 20% attuale, allo Stata attuale manca il 20%, pari a 17 miliardi di euro. Qualsiasi economia di qualsiasi regione crolla. È chiaro che le banche hanno destinato queste risorse, fondamentalmente sappiatelo, al debito pubblico italiano. Quindi è servito per alimentare il debito pubblico come risulta da bilanci della Banca d'Italia. Preciso, altresì, che i comuni nulla hanno fatto per fare in modo che ci fossero pianificazione programmatica sugli investimenti. Nulla hanno fatto riguardo la riqualificazione urbana, che avrebbe favorito, con riqualificazione e rigenerazione, avrebbe favorito anche l'edilizia privata, dove la gente andare a investire piuttosto che riservare depositi. Quando lei parla di comuni si riferisce ai sindaci, alla mancata programmazione, e i sindaci hanno comunque competenza, in questo senso possono fare qualcosa e non hanno fatto? I sindaci non hanno fatto programmazione come previsto da leggi dell'Unione Europea. I sindaci non hanno programmato urbanistica commerciale, non hanno fatto alcuna valorizzazione dei prodotti locali e dei trasformati delle nostre produzioni agricole e non hanno valorizzato le peculiarità dei cengi storici dei territori, non andando ad investire nonostante i numerosi fondi comunitari. Ora, tutto ciò non fa altro che far crollare un'economia che già era fiacca. Andiamo a pensare che come si possa sviluppare economia in Sicilia con una tassazione pari al 60% che riguarda le imprese. Sono statistiche ufficiali della Banca Mondiale. Le imprese e le società pagano il 60% di imposte e contributi diversi. Il personale dipendente, pari a 100% che viene erogato al personale dipendente, 94% sono di imposte e contributi a carico dell'impresa. La Sicilia non può sostenere un peso del genere. La questione è che di questi argomenti ne ho fatto presentazione a componenti parlamentari della regione siciliana e a organismi ufficiali. E di tutto ciò, Commissione Attività Produttive, Assessorato Economia, Assessorato Agricoltura, non gli importa concretamente documenti da più anni, non gli importa. sappi un particolare che negli ultimi 15 anni la Sicilia ha perso 190.000 ettari di coltivazioni che corrispondono a circa il 19% dell'intera produzione, dell'intero ettaraggio che vi era in Sicilia nel 2001. 190.000 ettari persi, smarriti, è grave. Corrisponde a una perdita di circa 900 miliardi di euro l'anno di produzione agricola. Da dove devono venire le risorse per le comunità? E ci ritroviamo trascorsi questi anni con un indice di povertà pari al 40% e un indice di disagio sociale pari al 53%. Io mi dico, ma non hanno sussulti di perplessità e ritegno a dire interveniamo, dobbiamo aprire dei tavoli di discussione, un confronto aperto con i signori organismi, le Camere di Commercio sono assenti. È necessario per il bene di tutti, non vi debbono essere ombre nel comportamento delle deputazioni regionali e degli organismi competenti. Abbiamo bisogno di iniziative, perché già sappiamo dei fondi comunitari che li hanno distolti con il cosiddetto decreto affossamento. Fanno mancare pure la finanza, ed è evidente, ed è evidente, perché, credimi, quel che stanno facendo arrivare con queste cosiddette 25.000 euro sono circa 1 miliardo e 300 milioni di liquidità, ma sappi che la Sicilia sta perdendo molto come PIL, la Sicilia sta perdendo non meno di 7 miliardi di euro come produzione, fanno arrivare 1 miliardo e 300 milioni. Quando già nell'ultimo anno non hanno ridotto erogazioni per 1 miliardo e 882 milioni, che cosa stanno facendo? Qua ci vuole il lavoro, la gente chiede lavoro, non chiede il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza, la gente vuole lavoro. È inspiegabile che abbiamo una costa, la provincia di Agrigento, 300 chilometri, pari al 18% delle coste siciliane, che non vi è nessuna programmazione su porti, porti produttivi, porti turistici, non vi è nessuna programmazione, Licata, Gela, Porto Empedocle, Sciacca, la cantieristica navale, che è notevole, da noi viene gente con le barche, con i pescherecci dall'Africa, va rafforzata, va sostenuta e vanno migliorati questi determinati porti, risorse immediatamente, preciso in particolare, risorse comunque, rispettando i parametri e gli obblighi, gli adempimenti prefissati da ANAC. Smettiamola da parte con dei commissari straordinari, con opere di somma urgenza e con l'Europa che poi non crede alle società delle spese. ANAC, regole rispettate e, come prevede l'Unione Europea, regolamento 240 del 2014 e legge del 2011 numero 88, ci vuole la partecipazione sociale nelle opere. Si discusse, il cosiddetto dibattito pubblico è previsto per normative di legge, non potete fare in modo che le cose si chiudano in quattro stanze, dobbiamo rendicontare socialmente la rendicontazione sociale, è un obbligo di legge.